Salve a tutti ragazzi, sto registrando 30 secondi dopo aver spacchettato Sylveon e spacchettiamo subito Dragapult, dai! Spacchettiamo Dragapult, sia perché mi serve già il raccoglitore, sia perché voglio spacchettare tutto, non ce la faccio a star qua con tutti i pacchetti che mi guardano. Voglio vedere tutto insieme a voi e continuare a portarvi, ma lunedì e giovedì è difficile non portarvele tutti i giorni queste cose però raga, eh vabbè dai, veramente veramente figo, chi ha visto Sylveon recuperatevelo se non l'avete visto, anzi Dark Sylveon, bello spacchettamento e siccome sto registrando a rota di collo non mi sono ancora informato se il drop di Dark Sylveon è buono o pessimo, non lo so, ma andiamo subito. Diamo un attimo un'occhiata sul retro, super festeggiamenti con Dragapult, Dragapult si catapulta, ah ah, a velocità supersonica nella tua raccolta sotto forma di un incredibile Pokémon Super. Questa fantastica collezione contiene delle buste di espansione Gran Festa, oltre al furtivo spettacolare e spettrale, scusate, Dragapult Super. Eh sì, perché qua abbiamo un Dragapult, vedete che anche, vabbè adesso vi faccio vedere un po' nel dettaglio meglio, io non resisto, io devo aprirli tutti, devo aprirli tutti raga, allora via, inizia, mamma mia è pesantissimo, allora, versione Jumbo, guardate che bella, Dragapult ha il nome in oro, Dragapult 150 PS, girata Mac e, o Mac, debolezza resistenza, tuffata, guardate che bello, Sword Ashi numero 132. Poi qua abbiamo, abbiamo dunque, il foglietto che ci dice, i Pokémon Super, hanno fatto il loro reboot, una serie Earth Gold e il suo serie, questo non lo sapevo, non hanno portato novità in termini di meccaniche, ma hanno lasciato ingannare, questi Pokémon sono davvero straordinari. Bene, e qua abbiamo il carinissimo, dove qua puoi mettere Gran Festa, quando l'avrai completato, se riuscirei a completarlo. Perdo tutto, poi andiamo a... Dunque, oh, beh, seriamente, seriously, ok, poi, hopla, andiamo a buttare tutto giù, bene, facciamo danni, carta codice ragazzi per voi, abbiamo Dragapult versione piccina piccina picciò, eccola qua, mettiamo subito qua. Questa bellissima moneta del 25esimo di Pokémon, veramente, veramente bella. E due pacchetti Gran Festa e un pacchetto fa... quindi questa è l'espansione con meno pacchetti, per ora, che io sappia, però contiene il... questo. Quindi, insomma, vedete voi, che poi se non vuole avere tutti i Pokémon, deve prendersela lo stesso per Dragapult, quindi, ebbè, poco da fare. Abbiamo solamente tre pacchetti, o meglio due, sono quelli che ci interessano. Qua, sapete che non ho mai avuto troppa fortuna con Scudo e Spada, ma vediamo, mai dire mai. Potrebbe essere questo il pacchetto che, provo al contrario, secondo me, non lo sarà. Scuntan Coffing, Bronzor Toxel, Litwick Lotad, Barbarella e un bel Geridos. Dai, dai, almeno rara olografica, almeno quello. Una bella rara Olo. E abbiamo due pacchetti, quindi questo. Silvio ne ha durato circa 11 minuti, mi pare. E questo durerà, ovviamente, molti meno, arriverà sui 6 minuti, sai tanto, che penso, eh. Un po' di magia, un po' di magia, un po' di magia, Johnny. Qua. Pronti? Lugia! Lugia, così, la numero 22, bel. Vedo del brillume, Cosmoe, vedo del brillume. Doppia! 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 Andiamo prima da Zassian, che ce ne frega anche poco, Zassian V, bello, carino. Mew X, oh mio Dio, Mew X. Erano le carte X, quindi io ero piccolissimo, quando uscirono gli X. E mi pare che fu da Rubino e Zaffiro in poi, credo. Mew X, quando il Pokémon è stato messo a capo, l'avversario pesca ha due premi. Poké Body, versatile, c'erano ancora i Poké Body, non le abita, si chiamano Poké Body. E mossa potente. Mew X. Guardate che bella! E' la numero? Non si vede. Allora, questa è la numero... Oh! Oi! Oi! Mite a fuoco! Ottanta... No, 88 di 92. Cioè, quindi, ci sono sia 25 carte così, sia 92. Quindi è un sottoset. Guardate che metto a fuoco. È un sottoset, mi stai dicendo. Quindi, solo devo farmi il culo per trovare tutte queste, ma anche... Ah, beh. Quindi, ci sono 92 carte, ex, non ex, in cui hanno preso le carte migliori di Pokémon. Mi pareva strano solo 25. Era troppo poco, solo 25. Dai! Continuiamo. Mio Dio! Mio mi... Quindi ci sarà sicuramente anche Charizard, Venosaur, gli Star... Oh! 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 Beh, giustamente, c'è l'Ughia. E non vuoi mettere anche... Oh! Oh! Abbiamo... Oh! Oh! Abbiamo, giustamente, l'Ughia, la co... Oh! 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 Professor Oak, l'impostore. Questa, me la ricordo, è la espansione del Team Rocket. Mi ricordo perfettamente, quindi questa è la numero... Scusa. Scusa. E questa, invece, è la... 25. È 102. Quindi sono 102, no? 92. Perché... Io avevo letto 92 su Po... Perché non si mette a fuoco? Avevo letto 92 su Mio... E in realtà sono di più. Ho fatto anche la rima. A parte che qua non... Cioè, proprio... Non si vede. Non si vede. Non si vede. 92. 92, 102. Quante cazzo sono ste carte? Quanto cazzo è grande questa espansione? Io pensavo fosse molto più piccola. In realtà non ho. Non ne ho idea. È immensa. È immensa. Io non so quanti reni dovrò dare per completarla tutta. Ovviamente tanti. Ma spero di riuscirci. Spacchettamento bellissimo. Due buste. Piene. 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 Ragazzi, il video di oggi termina qui. Io continuo a spacchettare tutto il resto. Vi ricordo di commentare, condividere. Iscrivetevi al canale. Lasciate un bel pollicione all'insù. Noi ci vediamo al prossimo video di spacchettamenti Pokémon con Gran Festa. Ciao ragazzi!